www.redigio.it e la storia continua Non è ancora arrivato il 1900 ma l'emigrazione italiana è in espansione La gran corrente dell'emigrazione italiana si è diretta finora verso l'America meridionale e soprattutto verso il bacino della Prata La Repubblica dell'Uruguay conta attualmente circa 450.000 abitanti e ad ogni anno sbarcano a Montevideo 17.000 migranti in media I quattro decimi della popolazione sono oggi di origine straniera e su questi migranti si ha il 35% che sono nati in Italia Paolo Mantegazza scriveva poco tempo fa che in quella regione si pare trasportati in una colonia italiana Il marenaio che vi sbarca è italiano Italiano è il facchino che trasporta il vostro bagaglio Italiano è anche l'albergatore che vi alloggia Sull'altra riva dell'estuario della Prata la immigrazione italiana prese altresì un enorme sviluppo Si è calcolato che dal 1857 al 1875 emigrarono alla Confederazione argentina oltre a 449.000 europei Che dal 1875 la cifra annuale dell'emigrazione è in media di 40.000 Quindi in un periodo di 25 anni si ha un totale di 850.000 migranti Dei quali un terzo abbondante è di origine italiana La provincia di Santa Fe nel 1879 era popolata da 41.000 abitanti Fra i quali 10.000 erano italiani In questi ultimi anni poi l'emigrazione italiana a Buenos Aires raggiunge la cifra normale di 1.000 persone per settimana A Rio de Janeiro il censimento ufficiale del 1879 indicava lo sbarco di 20.000 migranti Fra i quali 9.600 erano italiani Nell'impero brasiliano si stima ora che esistono oltre 61.000 italiani giuntivi dal 1869 Però da sicuri indizi si calcola che ora in un avvenire assai prossimo Gli Stati Uniti d'America sono destinati a ricevere una fortissima contingente di emigrazione italiana Uno degli organi più accreditati della stampa economica e commerciale di New York Dice che gli italiani occupano una posizione eminente In questa emigrazione è destinata ad esercitare un'influenza considerevole sull'avvenire delle industrie e delle classi artigiane degli Stati Uniti Si asserisce che gli italiani sono destinati a soppiantare sia la popolazione irlandese che quella tedesca Ed egli fonda tale sua asserzione sul fatto positivo che l'Italia è una nazione nella quale la popolazione aumenta in proporzioni sensibili E non è finora in condizioni finanziarie molto floride Difatti, la sua popolazione, che nel 1871 era di 26.796.000 raggiunse in dieci anni la cifra di 28.452.000 L'aumento delle nascite in confronto e dei decessi fu nello stesso intervallo di 199.384 ogni anno Conclude quindi dimostrando che il Regno d'Italia, nelle attuali sue condizioni economiche può fornire un contingente annuale all'emigrazione di 200.000 persone con il suo immenso vantaggio E questa emigrazione ora comincia a trovare il suo tornaconto dirigendosi negli Stati Uniti Affinità di razza, di religione, di clima e altro hanno finora di preferenza attirato gli italiani sulle rive della Plata Ma siccome la dimanda della mano d'opera non comporta un ulteriore forte sviluppo è naturalissimo che questa mano d'opera e queste forze in cerca di impiego si rivolgano agli Stati Uniti i quali soli sono capaci e per lungo tempo di fornigliene www.redigio.it 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 E la storia continua www.redigio.it 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 www.redigio.it